un cambiamento così soltanto... è formale la modifica che è stata fatta. Quindi chiederei la sospensione di un quarto d'ora dei lavori d'aula. Grazie. Guardi, lei mi sta chiedendo una sospensione. Prima è stato messo in dubbio il testo, ma il Governo ha ribadito che questo è il testo su cui stiamo discutendo e se il Governo in questo momento non dà segnali di voler sospendere perché magari è in atto una riformulazione di cui non abbiamo notizia, non c'è bisogno e non c'è motivo di sospendere. Io lo dico con molta franchezza, insomma. Non c'è nessun motivo di sospendere perché resta questo il testo definitivo che stiamo analizzando in Aula. Nient'altro. È rientrato Bordo a facoltà di intervenire. Deputato Bordo. Grazie, Presidente. Mi scusi, ma eravamo appunto convocati dal Ministro e io penso sia tuttora in corso un tentativo ancora di modifica rispetto a quanto è stato proposto dal Ministro a quest'Aula. Ebbene, rispetto a quanto è stato proposto sembra una questione, diciamo, semantica mettere piante al posto di sementi, aggiungere una O, ma noi riteniamo che cambi nella sostanza l'ordine del giorno che il Parlamento, la Camera dei Deputati è chiamato ad approvare. Un'ordine del giorno su cui abbiamo avuto una convergenza unanime, quasi unanime, come gruppi e che scaturisce da una cronologia di fatti, di eventi in cui io, che vorrei ricordare brevemente, il 21 maggio il Senato ha approvato una mozione in cui si diceva appunto di adottare la clasula di salvaguardia e o il decreto interministeriale, come ha chiesto stasera il Ministro, di ripetere, ma noi siamo qua dopo 50 giorni dove appunto non è ancora stato adottato nessun tipo di provvedimento. Nel frattempo in Friuli è stata messa in semina il mais 810, per cui un mais strangenico. Abbiamo avuto le manifestazioni degli agricoltori davanti a Montecitorio che ci hanno chiesto e chiedono a questa Camera di adottare la clasula di salvaguardia. Ho avuto però il 26 giugno una risposta a un'interrogazione urgente in question time da parte del sottosegretario in cui effettivamente incomincia a trasparire la volontà del Ministero che è quello in cui si dice che secondo il Ministero non vi sono le condizioni per ricorrere alla clasula di salvaguardia vera e propria, in questo virgolettato. Qui ci sta già la volontà appunto del Ministero di non voler seguire questa strada. E allora noi di cosa stiamo parlando? Nella parte della mozione in cui diciamo di andare in Europa a testa alta con una necessaria energia negoziale con cosa ci andiamo se non andiamo col fatto che il Parlamento italiano dice chiaro e tondo che gli Stati membri possono in libertà e devono essere messi in condizione di adottare liberamente sul proprio territorio la clasula di salvaguardia. Se noi rendiamo più debole questo aspetto non abbiamo nessun potere negoziale. Io voglio dirlo con chiarezza. Non si può, signori Ministri, la signora Ministro che oggi è presente, e gli altri Ministri che come me hanno partecipato loro con molta più autorevolezza a un'importante, importantissima Assemblea nazionale di un'importante organizzazione di agricoltori in cui è stata chiesta nella relazione iniziale la clasula di salvaguardia davanti a 15.000 agricoltori andare a dire faremo di tutto e facciamo di tutto e poi uscire con un comunicato come è uscito il Ministero delle politiche agricole in cui si dice i tre Ministri si sono incontrati per analizzare nel merito la questione come affrontare la questione della coltivazione di organismi geneticamente modificati si adotterà un decreto interministeriale e noi siamo certi che questo almeno questo verrà adottato ma non è sufficiente dobbiamo dircelo con chiarezza ma però si dice anche con chiarezza dentro questo comunicato si è convenuto di deputati vi invito ad abbassare il tono della voce cortesemente eh lo alzo perché voglio farmi sentire si è convenuto altresì di coinvolgere le regioni nella definizione di un quadro normativo che consenta di affrontare in modo strutturale il problema della coesistenza questo è grave è grave che il Ministro dell'Agricoltura appunto metta nero su bianco questo aspetto perché vuol dire che il problema che noi abbiamo in Italia ce lo vogliamo portare avanti affermiamo o si vuole affermare che la coesistenza in questo Paese è possibile in questo Paese la coesistenza in agricoltura se vogliamo salvaguardare la nostra agricoltura convenzionale l'agricoltura biologica che è uno dei pochi settori fra l'altro in trend ascendente non possiamo concepire la coesistenza dobbiamo contrastarla fino in fondo e non possiamo per cui andare a ribasso dobbiamo far sì che il Parlamento si esprima in modo chiaro poi il Ministero faccia tutti i passi che è in grado e che può fare ma da questo Parlamento da queste Camere deve uscire una voce forte perché se no la voce del Governo in Europa sarà debole, debolissima e succube io voglio essere molto chiaro in questo fatto noi certo abbiamo dei problemi all'interno del Governo un Governo che si mostra sempre più come un OGM permettetemelo e questo essere ibrido probabilmente è quello che fa stare in piedi cose che non possono fra di loro stare in piedi perché la coesistenza non salvaguarda la biodiversità la biodiversità è quella che salvaguarda la nostra agricoltura e la nostra agricoltura è quella con queste caratteristiche che tiene in alto il Made in Italy che tiene in alto le nostre esportazioni se noi non stiamo fermi su questo punto noi vuol dire che andiamo a attaccare la tenuta anche economica anche economica e non solo e ambientale del nostro sistema agricoltura della nostra economia agricola per cui noi chiediamo se rimane ferma la posizione del Governo di votare separatamente sulle due richieste che sono avanzate perché appunto su quei due aspetti SEL è contraria grazie la ringrazio c'era il deputato Corsaro sull'ordine dei lavori la ringrazio signor Presidente io avevo segnalato quando alla Presidenza era seduto il collega Giacchetti l'opportunità di sospendere il giro di dichiarazioni di voto atteso che il Ministro competente era uscito dall'Aula portandosi dietro un numero cospicuo di parlamentari ragionevolmente per immaginare la posizione di talune modifiche a un testo sul quale viceversa quanti erano in quel momento in Aula stavano esprimendo un parere non sapendo se sarà un parere una dichiarazione di voto su un testo che rimane o non rimane ora francamente vede signor Presidente io credo che questa sia l'esemplificazione di un modo vergognosamente abborracciato di procedere questa è una mozione che viene oggi in votazione dopo che era già stata iscritta all'ordine del giorno la settimana scorsa quindi con un periodo di gestazione e di lavorazione in Parlamento oramai consolidato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti